Sono Eva Bonitatibus, giornalista di Potenza, e per questa bellissima iniziativa del Comune di Tivoli dedicati ai premi Nobel per la letteratura vi leggerò di Grazia de'Ledda il racconto Il vecchio Moisés, tratto dalla raccolta di novelle Il dono di Natale. Quando Moisés tornava a casa per Natale, noi ci affollavamo attorno a lui per sentire le sue storie. Egli sulle prime si faceva pregare, preferiva insegnarci ad arrostire tra la brage e le ghiande che si gonfiavano e diventavano rosse e saporite come le castagne. E ci diceva che in certi paesi della Sardegna si fa anche il pane di farina di ghiande, al quale si mescola una certa argilla che lo fa diventare più saporito e consistente. Poi, a furia di preghiere e di occhiate supplichevoli, si riusciva a fargli raccontare qualche storia. Seduti intorno al cammino dove ardevano interi tronchi di quercia o intere radici di lentischio, nere e aggrovigliate come teste di medusa, noi ascoltavamo attentamente. Era presto ancora per la grande cena, che si fa dopo il ritorno dalla messa di mezzanotte, alla quale noi però non assistevamo perché la notte di Natale è quasi sempre rigida e nelle notti rigide i ragazzi devono andare a letto. Ma per noi e per tutti quelli che volevano mangiare senza profanare la vigilia veniva preparato un piatto speciale di maccheroni conditi con salsa di noci pestate e con questo e con le storie di Moisè ci contentevamo. Egli dunque soffiava sul fuoco con un bastone di ferro, un bastone bucato che era poi una vecchia canna d'archibugio e raccontava. Quando nacque Gesù, egli diceva, la gente era buona ancora e senza malizia, ma appunto perché gli uomini erano ingenui e avevano paura di tutto. Il mondo era infestato di esseri maligni. Allora esistevano le fate cattive che potevano cambiarsi in animali e spesso andavano nelle case sotto forma di gatti, di cani o di galline e vi portavano sventura. Allora esistevano i cavalli verdi che portavano i propri cavalieri nei precipizi. Esistevano i vampiri, esistevano i serpenti e specialmente uno terribile che si chiamava Cananea. Ma soprattutto davan da fare ai buoni pastori e alle buone massaie, i diavoli, che prendevano aspetto umano e si fingevano anch'essi pastori e venivano riconosciuti solo dalle unghie attorcigliate o dai piedi simili a quelli dell'asino. Gesù venne al mondo per liberarlo da tutti questi esseri maligni e specialmente dai diavoli.